C'è anche un dipinto del 1400 raffigurante San Leonardo rubato nella chiesa di San Luca di Armento a Potenza nel gennaio del 1972 tra le oltre 600 opere d'arte rubate e recuperate dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Puglia e Basilicata nel 2016. Tra queste vi sono beni antiquari, archivistici, librari e reperti archeologici per un valore complessivo stimato di oltre 500.000 euro. Il dipinto ritrovato dopo oltre 44 anni era esposto in Liguria per essere venduto all'asta. L'opera del valore stimato di circa 80.000 euro è attualmente sottoposta al restauro. Dal bilancio dell'attività dello scorso anno emerge il sequestro di 456 reperti archeologici, molti dei quali integri e trafugati da 11 tombaroli poi denunciati durante scavi clandestini di aree interessate di interesse archeologico, soprattutto dei territori di Foggia, Taranto e Matera. Tra le opere d'arte recuperate ci sono tre maioliche del 1500 rubate a Cerignola e sette pergamene medievali trafugate a Conversano.